Sommerso mister Gabriele da una valanga umana di piccolini Fai spinta Ecco i nostri ragazzi Vieni Bravo Saverio Tlaccaggio E' bravo Dai 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 grandi le posizioni Ecco si divertono i ragazzi Prima di divertirsi è il mister Gabriele Il nostro coordinatore dello staff tecnico Fermi Vedi vicino a me Ecco adesso ha fermato il gioco Mister Gabriele Ha raggruppato i suoi ragazzi Ehi guarda come sta il misto Tu come stai Guarda come sto Allora No Così Allora Bravo Leo Gli ultimi due minuti Perché abbiamo fatto quello scambio Uno due Si chiama triangolazione Uno due E andiamo a fare gol Il passaggio è la cosa più importante